L'area a caldo non chiuderà e gli interventi programmati per il prossimo biennio vanno proprio nel senso contrario. Questo è il messaggio che filtra dai vertici di Siderurgica Triestina, rimasti letteralmente stupiti dalla conferenza stampa in cui nel pomeriggio di ieri i sindacati hanno lanciato l'allarme rosso sul futuro dei 570 dipendenti della feriera. Di fronte alla definizione di lavori di puro mantenimento dei sindacati, rispetto al piano presentato dalla proprietà RSU e confederali, l'azienda replica parlando invece di una serie di interventi tempestivi con in parallelo anche la prosecuzione dell'iter per arrivare alla copertura dei parchi minerali. Altro nervo scoperto, toccato dai rappresentanti dei lavoratori, che rimane a detta di Siderurgica, un progetto che va avanti e arriverà a compimento appena possibile. Quanto alla chiusura programmata dell'Alto Forno, gli emissari del gruppo Arvedi ribadiscono che l'impianto chiuderà nel rispetto della diffida della regione dal 28 luglio al 1 agosto, poi gli altri 15 giorni di chiusura nella seconda metà di settembre, nel rispetto dei lavori che l'AIA richiedeva entro un triennio, fra questi anche l'intervento alla bocca dell'Alto Forno, ritenuto decisivo anche dalle parti sindacali, per tenere sotto controllo i livelli di inquinanti. Insomma, da una parte i sindacati preoccupati anche dall'imminente campagna elettorale per le regionali, che potrebbe far tornare incandescente il dibattito su Servola, e visti i trascorsi recenti, far saltare letteralmente il tappo al Cavalier Arvedi davanti a ulteriori possibili affondi della politica. Dall'altra, la proprietà che sostiene di voler mettere in campo tutti gli interventi necessari affinché l'impianto si adegui alle prescrizioni ambientali. Che ci sia qualcosa di non detto dal fronte sindacale, qualcosa di successo nelle segrete stanze che ha fatto montare la preoccupazione snocciolata ieri alla stampa, oppure mera logica comunicazionale di RSU e confederali, che devono tenere le posizioni ed evitare di perdere peso nella logica del confronto aziendale?